Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e in FIPILI. In A1 in direzione Bologna sono possibili disagi per lavori per la chiusura delle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Per lavori è stata chiusa l'uscita di Monte San Savino provenendo da entrambe le direzioni. Per lo stesso motivo uscita chiusa anche a Firenze Sud provenendo da Bologna. Rimanendo sulla A1 ma sulla direttissima stanotte, dalle 22 alle 3 chiuso il tratto compreso tra il Bivio con la variante di Vali con la Quercia e Aglio in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!